eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video in compagnia della mia rubrica code community i vostri video più belli su call of duty come sempre prima di iniziare vi ricordo di passare in descrizione dove troverete i requisiti e passaggi per mandarmi le vostre partite più belle su qualsiasi code oggi ci gustiamo il video di try nuke una deatomizer strike in 145 secondi più il juggernaut in solo come sempre trovate il canale del protagonista della mia rubrica giornaliera qui sotto in descrizione e a me non resta che augurarvi una buona visione grazie a tutti 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 mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.